Marchi contraffatti, prodotti falsi, oggetti di lusso imitati con materiali scadenti e venduti a basso prezzo. Il Ministero per lo Sviluppo Economico rafforza l'attenzione verso le merci contraffatte e si concentra sui giovani, soprattutto sugli studenti della scuola superiore, che sono i più esposti al fascino dei prodotti falsi, ignorando i rischi di questa incauta scelta. Chi acquista oggetti contraffatti è soggetto a una multa fino a 7.000 euro e mette a rischio la salute per la qualità non controllata delle materie prime. La Direzione Anticontraffazione del Ministero, attraverso uno studio del Censis, ha stimato la dimensione economica del fenomeno che sottrae ricchezza alla collettività e risorse allo Stato. Napoli è fra le città italiane più interessate dal fenomeno della contraffazione. Per questo il Comune di Napoli sta dando spazio e attenzione alle iniziative del Ministero, per creare consapevolezza fra i cittadini e soprattutto fra i giovani, per i quali saranno realizzate campagne mirate di sensibilizzazione. Lunedì prossimo a Castel del Lovo sarà presentato in dettaglio lo studio del Censis, con la mattinata dedicata alle scuole e il pomeriggio rivolto agli attori istituzionali che lavorano per contrastare i danni causati dalla contraffazione.